Elion Chatillon presenta il Quartetto Cetra Allora d'accordo, il cliente di ogni nazione qui deve sentirsi come a casa sua, capito? Capito! Attenti, questa chiardina è ungherese Maffala, non vedi che ha il costume del paese Maffala, ecco la bombetta con la fascetta tricolore Messa là, buongiorno, ben arrivata qua Presto cosa aspetti mondo cane, offri il sale e offri il pane Come fosse a casa sua si sentirà Grazie Fuori, tira fuori il tuo violino e improvvisa sul campino Un motivo primitivo mazzicante Ora come fanno nella buzza quando arriva una ragazza Nella danza la dobbiamo fascinare Bene arrivata, benvenuta E l'Italia le è piaciuta Dove è stata, dove è andata E da adesso dove andrà Ma cosa importa mai a lei? Dove vado, dove vengo, dove proseguo Mi proseguo questi suoni a fare in lei Giusto, si fa per dire Per conversare, per creare una certa intimità Voglio portarmi via Un bel ricordo dell'Italia Da vostra casa mia Su, su, su Facciamo presto, guardi questo No, no, no Io voglio roba molto meglio Ragazzino, vuote il magazzino Zino, su, su, su E porta tutto qua Guardi lei va bene, questo è magnifico E modesto E da allora guardi questo e mi dica se le va Non mi va non vale niente La signora è competente O che faccio finalmente una cosa sorprendente Che cos'è? Che cos'è? Elion Che fibra Elion nella biancheria Se si bon Oh che fibra special Elion nelle calze Se si bon E' un pilato tra i schic Elion negli impermeabili Se si bon Tutto il mondo lo sa E' di gran qualità E l'elion Che fibra E' di gran qualità E' di gran qualità